Degrado di Villa Margherita. Saranno gli scout sabato e domenica a ripulire il parco dell'edificio lasciato vuoto dai carabinieri. L'incuria del complesso di Viale Felicent è stata denunciata a più riprese nelle ultime settimane dai consiglieri di minoranza e da comuni cittadini. A luglio la villa farà da sfondo a cinque giornate dedicate all'ambiente e dopo l'estate si vedrà. Il sindaco Giovanni Manildo ha confermato la volontà di trasformarla in un campus universitario. Uno degli immobili più prestigiosi che abbiamo, stiamo dialogando con le università sia Caffoscari e Uav per gestire magari un campus con una formazione post-universitaria. Sicuramente sarebbe una bellissima prospettiva. Promotori delle giornate per l'ambiente, comune e gruppo alcuni. Dopo le polemiche pace fatta tra Cassugana e i fratelli Manfio, il sindaco ha ribadito che la convenzione con loro non si tocca. Io penso che la cultura abbia bisogno di una programmazione, una progettazione e che la convenzione con gli alcuni sia uno dei modi, sia sicuramente un bel modo per fare cultura anche nei confronti dei bambini. Questo non vuol dire che si tolgono risorse ad altro. Diciamo che la polemica è chiusa anche se noi non l'abbiamo assolutamente fomentata, però in realtà c'era questa cosa da risolvere. Penso che si possa risolvere facendo in modo che questi fondi vadano allocati in altri capitoli di bilancio e che non si continui a dire che la cultura treviso è ferma per colpa mia. Si riparte rimboccandosi le maniche. 13, 21, 22 e 28 luglio nel parco si parlerà di ambiente con grandi e piccini, ma prima gli scout lo ripuliranno. Abbiamo cercato di incontrare le istituzioni per capire se potessero esserci delle situazioni in cui potevamo lavorare, potevamo dare una mano, dare il nostro contributo, sporcarci le mani. È venuta questa iniziativa, vediamo se adesso verranno fuori altre opportunità per noi e eventualmente anche per gli altri gruppi della città.